Ciao a tutti criticoni e criticone, e rieccomi con un nuovo video. Scusate per la voce un po' fievole, ma come sapete sono ancora raffreddato. Oggi torniamo a parlare della Damanera. L'ultima volta l'avevamo lasciata al suo scontro con Carmen T, quest'ultima area di averle portato via il monopolio sull'argomento Giuseppe Lothrop e Serena, grazie anche alla vicinanza che Carmen ha con la mamma di Serena, o meglio, più che vicinanza, conoscenza. Oggi invece parleremo del suo scontro con Vodka, che sta avendo negli ultimi giorni, e parleremo anche del famoso diploma fake di Calogero che ha esibito in live. Il diploma fake è stato quasi subito scoperto. Non ho capito se la Dama l'ha voluto mostrare perché così almeno magari la Trincia vedeva la sua live e si ingelosiva poiché Davide non è diplomato, oppure perché dei troll li scrivevano in live che non credevano che Calogero fosse qualificato. Sta di fatto che ha mostrato questo diploma che era palesemente fake e se voi digitate sul motore di ricerca su Google diplomi fake, vi viene fuori subito. Per di più, penso che chiunque abbia fatto le scuole superiori e abbia passato la maturità lo sa benissimo come è fatto un diploma e io in primis, che sono diplomato, vi posso assicurare che quello non è un diploma. Vodka negli ultimi giorni, sapete che ha fatto un paio di parodie su la Dama Nera. Per quei pochi che magari non lo conoscessero, Vodka è un ragazzo che ha un canale su YouTube con più di 9.000 iscritti. Solitamente fa parodie su Chiara D'Alessandro, però ultimamente si è voluto concentrare anche su altri personaggi di questo sottobosco di YouTube. Ha fatto un paio di parodie su la Dama Nera e sapete che la Dama Nera apprezza molto l'ironia, ovviamente finché l'ironia è verso gli altri. Quando invece è verso di lei, scattano le denunce, corre dal cugino carabiniere in caserma e va a denunciare la qualunque denunce che in realtà, ragazzi, non sono vere. Secondo me non ha nessun parente nel corpo di pulizia, nella giustizia, come dice lei. Il tutto sarebbe iniziato perché dei troll sono entrati in live e le hanno riferito della parodia che Vodka aveva fatto su di lei. La Dama Nera ha dichiarato che lei non si comporta come Chiara D'Alessandro, che non si mette a urlare in live e che non si mette appunto a fare live buasta e che agisce nel privato denunciando. Quindi pure Vodka è entrato ufficialmente nell'elenco dei denunciati. Sentendo queste parole della Dama, mi è venuto in mente quando le hanno buttato giù il canale e niente, andate su San Giuseppotrop e trovate il tutto. Le avevano pure fatto presente che quella volta che le avevano buttato giù il canale lei aveva fatto allusioni su una presunta pet di Davide ma ha negato il tutto, come sempre. Nonostante la Dama Bianca, che saluto, abbia pure portato un video con la sua voce, uno spezzone di video del suo ex canale dove lei faceva queste allusioni, ma poi neanche allusioni, lo diceva proprio esplicitamente. La Dama si è difesa dicendo che quel pezzo era sull'altro canale e quindi, guarda caso, lo avranno sicuramente tagliato ad hoc un po' come la storia degli audio in cui lei ammette di essere stata, sapete dove. È successo inoltre, questo più recente, un fatto molto più grave, anche se poi alla fine tutti l'abbiamo preso con una grande risata. Vodka ha ricevuto un commento molto stupido da un certo canale chiamato Il Bidello. È un canale che l'anno scorso ricaricava qualche spezzone di video di Davide e Chiara e fin dai tempi del dissing di Dama con Vassago, Vassago aveva dichiarato che quel canale era della Dama Nera. Improvvisamente quel canale, che non veniva utilizzato da mesi, ieri ha lasciato un commento sotto l'ultima parodia di Vodka, parodia appunto che ironizza il personaggio della Dama Nera, chiedendo chi fosse tra lui e il suo fidanzato quello che porta i pantaloni e chi facesse il maschio e la femmina. Vi consiglio di andare nella community di Vodka perché la risposta è stata alquanto fantastica, secondo me. Quindi, che dire ragazzuoli? Lei, come al solito, la Dama può fare parodie su chiunque. Però, ovviamente, guai se qualcuno dovesse anche solo azzardarsi a parlare di lei. Magari questo video mi farà vincere una pausa caffè? Chi lo sa? Solo il tempo ce lo dirà. Volevo inoltre fare presente alla Dama che lei fa spesso queste uscite omofobe, lei e Calogero, che uno dei suoi cavalli di battaglia per cui per tanto tempo ha attaccato la Trincia è stato quando Davide aveva dato del frò a Marco Tito Volley, definendoli omofobi e scostumati. Quindi, adesso che cosa dici invece di Calogero? Che poi non è la prima volta. A Calogero ci sono una serie di video ricaricati dove fa uscite omofobe, transfobiche, sessiste e anche razziste. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mi dispiace magari che non sia uscito proprio benissimo, ma come sapete non sto ancora bene. Un bacione e alla prossima.